E' stato ferito e otto volte ridotto in fin di vita. Non è vero che il leone abbia un cattivo carattere, come tutti gli aggressivi è un timido. A schiaffeggiarlo reagisce, ma basta minacciarlo col dito e vedetelo come si abbioscia. Certo, a pestargli i calli va un poco in bestia, ma questo succederebbe anche a noi. Oscar se li fa amici da piccino, li mette per così dire sul giusto binario. La discrezione del giovincello è esemplare. Avendo a portata di zampa un aromatico espresso, pochi resisterebbero alla tentazione di farsi un cappuccino.